La sintesi è fare le cose per bene, quindi non ha senso che tu hai i panchicci vuoti, le macchine in mezzo alle strade e poi c'è un'area dove c'è probabilmente una macchina sull'altra. Ah, quindi anche lo senso è abbastanza insordinato. Quindi la sintesi è riportare a condizioni di unità, di ordine, decoro e bellezza con un progetto che dia una risposta alla città, non ha quei fuoti fortunati a che riescono, facendo una gara in maniera fantoziana a fare loro a chi raggiunge quella guida. Io, ripeto, vi invito un animo serenone a verificare, apprezzare, avranno straguardate quello che oggi la città ottiene rispetto a delle misure compensative che sono ovviamente state necessarie ma che, anche perché, come si diceva prima, Sala Manelli lavora per l'Italia nella partecipata del Comune Municipalizzata, quindi nella realtà c'è anche una testa di Spagna, quella quale, comunque, è stata medialettica anche abbastanza forte in alcuni momenti. Però il risultato che noi otteniamo, io vi dico, secondo me, senza tema di smentire, è un risultato molto buono per la città, per quello che era ovviamente il punto di partenza. Grazie. Grazie.